In questo momento è l'unica struttura della provincia di Messina autorizzata dalla prefettura. È il nuovo centro di prima accoglienza per minori non accompagnati Sebastiana Rosselli, localizzato nel quartiere chiesa di Fondachelli-Fantina. Tre giorni fa sono arrivati qui 59 ragazzi provenienti per la maggior parte dal Bangladesh e dal Pakistan. I minori saranno ospitati per tre mesi, poi potranno trasferirsi negli Sprar, localizzati a Barcellona, Messina, Rodimilici, Montalbana e Licona, Capodorlando, Milazzo e Castro Reale che si stanno attrezzando con i nuovi bandi ad ospitare i minori non accompagnati. È un risultato importante quello che abbiamo ottenuto nel nostro comune, ha ricordato il sindaco Marco Pettinato. Per questo mi sento di ringraziare il prefetto Stefano Trotta e il vice prefetto Maria Antonietta Cerniglia. Il centro di prima accoglienza va ad aggiungersi a quello di Via Rubino in cui sono ospitati 40 migranti maggiorenni provenienti in massima parte dalla Nigeria, Eritrea ed Etiopia. Anche questa struttura è stata autorizzata dopo che il sindaco ha dato la propria disponibilità a fronteggiare l'emergenza sbarchi nelle coste siciliane. Pur se il comune di Fondachelli-Fantina ha presentato in vano richiesta per avere un finanziamento con lo Sprar, di fatto oggi è uno straordinario esempio di disponibilità e di integrazione in Sicilia. E a rafforzare il reciproco rispetto dei migranti con la gente del posto ci ha pensato una famiglia della Nigeria, ospite della struttura di Via Rubino. Ha chiesto di poter battezzare i loro due gemellini nella chiesa dei Santissimi Angeli Custodi e così è stato. Domenica scorsi i due piccoli sono stati battezzati, madrine sono state Margherita Ferrara e Franca Pipitò. Dopo la messa la famiglia al completo, padre, madre, un figlio di 10 anni e i gemellini, grazie al contributo di tutta la comunità montana, ha prima festeggiato l'evento al ristorante e di seguida è stata organizzata una festa con dolce a sassietà.